Nei primi giorni di dicembre terremo a Napoli la COP sul Mediterraneo, ad annunciarlo il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, a margine del workshop sui temi dell'edizione 2019 del rapporto sulle economie nel Mediterraneo. Avremo tutti i paesi che affacciano nel mare Nostrum, sarà un momento di confronto e di dialogo per tracciare una linea sulla tutela della biodiversità. Il ministro ha poi annunciato a breve lo sblocco di 3 miliardi di euro per il 2019 che velocizzeranno il sistema della cantieristica ambientale. Questo è il momento di agire, ecco perché la conferenza sul mare la terremo a Napoli, conferenza sul mare Mediterraneo la terremo a Napoli, ma anche questo è collegato a tutto quell'altro spettro di azioni che abbiamo già firmato, penso al piano clima ed energia, che adesso è in valutazione ambientale strategica, che abbiamo già depositato però all'Unione Europea, che guarda come contrastare il cambiamento climatico in termini concreti.